Buonasera a tutti ragazzi, oggi ci troviamo alla chiesa di Sandorino Martini, anche a il frontale potete vedere la campanone, questa la minzana, la sua minzana e questa la piccola, per vedere, ora potete vedere i tocchi della mezza e poi la distrazione della piccola, buona visione. Grazie. Uno. Uno. Ecco Ecco, ora vi spettiamo Ecco 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 Mamma mia Vedi ragazzo ho fatto appena un tempo avendo la piccola Senta E sei arrivato qua Beh, abbiamo fatto il tempo Beh Vedi Visto Quella vetura c'è la chiesa e si comporta E da solo si Adesso le campane Le campane Visto se vioggia Servite la campane A presto Ciao a tutti Alla prossima